Mamma mia, come sto? Mi sento come il cappuccetto rosso Una favola! E chi se ne va da qua? Io gli ho via la residenza Mamma mia, come sto? Dice tirare ancora Mamma mia! Invito i nostri amici, telespettatori, telenettori, teledipendenti a seguire la mia intervista su CineNew24 Tutti precisi, carucci e pettinati Ciao, vi aspetto! Penso che c'è un progetto riguardo un film dal titolo L'amore non crolla mai che sarà diretto da Roy Geraci Tu dovresti far parte del cast quando tutto sarà pronto Certo, come no? Beh, Roy sarà la sua prima esperienza cinematografica Io chiaramente ho parlato con lui mi ha raccontato questa sua molto impegnativa impresa cinematografica mi sono rimasto molto entusiasta la sceneggiatura è veramente molto interessante è un dramma umano quello che è stato chiaramente vissuto durante il terremoto e io penso insomma che sarà per lui una grande responsabilità portare a termine questa impresa cinematografica ma non ne dubito conoscendolo e apprezzandone quelle che sono le sue qualità mi auguro insomma di sostenerlo di realizzare questo progetto al quale lui viene ma noi tutti insomma non aspettiamo altro di sentire il primo motore e ciac Si sa la parte che interpreterai in questo film? Si sarà il papà di uno dei ragazzi protagonisti del film e poi chiaramente è un film corale insomma con molte situazioni però chiaramente è il fatto che durante il terremoto si rimboccano le maniche e vanno avanti perché non si arrendono per il grande amore che hanno per loro e per la gente che li circonda insomma penso come ti auguri che cambi il cinema italiano nei prossimi anni